Benvenuti nella mia cucina! Sono molto felice che sia tornata a trovarmi quest'anno Simonetta Agnello Orbi con cui stavamo già parlando di libri e di cucina. E insomma, diciamo subito, Simonetta, qual è il menù di oggi? Che è un po' antichi sapori, che in certe cose ricorda anche alcuni libri che hai scritto, perché tu hai anche parlato spesso di cucina. Dico veloce il menù, sono spaghetti alla ventresca di tonno, poi invece tu fai un agnello... Io faccio l'angnello all'agrodolce, prima di tutto buongiorno, che bello vedere tanta gente, non batte le mani. Ed è una ricetta siciliana? Allora, è una ricetta siciliana inventata, è la ricetta dell'emigrante. Io mi sono sposata a 21 anni, sono andata in America, e avevo desiderio delle cose di casa di mia madre, e mi facevo, secondo me, il piatto più buono di mamma, che erano delle costolette d'agnello che farò per voi, all'agrodolce, poi le cucinavo, le mangiavo con mio marito, e dicevo Martina, il sapore di casa. E quello mangiava. Questo è andato avanti per circa sette anni, dopodiché io ero a Londra con due bambini, mamma viene a stare da me e dico, mamma oggi c'è gente a cena, facciamo l'agnello all'agrodolce. Dice, come? Dico, l'agnello all'agrodolce. Ma comincio a cucinare, mamma dice, che odorino, che profumo, ma che cosa? Dico, mamma l'agnello all'agrodolce, lo facevi sempre tu. Io mai. L'agrodolce, ma come? Come ti è venuto? L'agrodolce, no no, l'agrodolce con l'agnello non va mai, dice mamma. L'agrodolce va con la caponata. Ecco, hai capito? E io avevo confuso i due, per sette anni. Però senti, ne è nata una ricetta meravigliosa. Io dico di sì, e poi continuo ad averla. Ecco, vedi, continuiamo a farla. Allora, diciamo anche che facciamo le paste alla meliga, che invece questa è una vecchia ricetta di famiglia mia, ma è vero, giuro. E poi come salva cena facciamo la pappa al pomodoro. Facciamo una piccolissima pausa, già subito pubblicità. E poi ricominciamo con questo agnello finto della mamma. Mettiamo con Simone, che è questo agnello orno. Alla ricerca di antichi sapori. Bentornati nella mia cucina insieme a Simonetta Agnello Orbi, con cui adesso partiamo a fare queste costolette di agnello in agrodolce. Da dove si parte, che vedo che hai due pentole? Si parte dalla pentola più grande. Si accende e si mette... Vuoi che accenda io? Sì, questo qua. Fatto. Vai. Si mette l'olio. Io ti do l'olio. Vuoi che la tagli io, la cipolla, che non tutti amano poi andare in giro con l'odore di cipolla nelle mani? L'odore di cipolla è bello. Facciamo una tua e una io. Esce un po' poco. Se vuoi ti do l'altro, che questo qui è quello proprio parco. Questo invece ce l'è di più. Questo invece è generoso. È generoso. Però si cucina con poco olio oggigiorno perché fa male alla salute. Andiamo con il parco. Ti do... Ho visto che ti piaceva il mio... Che bello! E non è di ceramica. No, no, no. Questi sono di metallo. Cosa sono? Ok. Ma che velocità! Devo stare al pari, eh? Ok. Queste si fanno veloci? Sì, sì. Le tagli... Vedo che le lasci ad anelli grandi. Sì, perché sono più belle. Sì, si sentono. Poi l'agrodolce si sposa bene. Ora, l'odore di cipolla secondo me è bellissimo. Se vuoi quello più potente è l'altro, eh? L'altro, dove siamo? Aspetta. Ecco, mettiti, io mi metto sempre lì per fare i soffri. Molto meglio. Questo è potente. L'importante è fare così. Così proprio ti si impregnano bene anche le unghie. Così le mani puzzano bene. E poi quando firmo i libri per il mio primo libro... No, davvero? Aiuto! Per cui avranno, i miei lettori avranno dei libri profumati. Profumati! Tra l'altro, diciamo, il veleno dello Leandro, che è il tuo ultimo libro, no? L'ultima fatica. La mia ultima fatica. L'ultima uscita, io ce l'ho adesso qui sotto perché non l'ho ancora letto e poi però voglio che tu mi faccia una dedica, eh? Sarai la prima ad averlo profumato proprio d'occo. Eh, di cipolla, fantastico! Cucchiaio. Tu, secondo me, sei uno che vuole il cucchiaio di legno. Io sono legno. Però c'ha un buco, non lo so. Questo è moderno. Non so che cosa... Oddio, c'è della cipolla per terra, adesso mi inciampo e cado. Aspetta che la tiro su. Eccomi qua. Dai, mentre soffriggi io faccio vedere anche il tuo libro, eh, che ce l'ho qua. Mi piace anche il colore, il vereno dell'Oleandro. Ma è un po' scabroso sto libro? Ho letto che c'è una storia di bisessualità, di... Ma questo non è scabroso. Lo sapevo che mi rispondeva così. Giustamente. Questo non è scabroso. Giustamente. C'è una storia di bisessualità. È una storia però che si svolge sempre in Sicilia, eh. È una storia in Sicilia. È la storia di un grande amore. Ahà. E io vado sempre contro i tabù. Perché è giusto che i tabù si distruggano quando lo meritano. E in questo caso lo meritano. Cioè il tabù del bisessuale. Noi siamo pieni di eterosessuali e omosessuali. Esatto. I bisessuali ce li scordiamo. Io lo capisco che è difficile. Se avreste avuto un marito bisessuale, vado a una cena, chi c'è c'è devo guardarmi. Non sai più da che parte difenderti. Però, se fosse stato un gran marito uno diceva bene. E ora parlando sul serio, io sono la fiduciaria di una beneficenza per i bambini e le famiglie che sono sieropositive, che hanno spessissimo il padre che era un bisessuale che è morto. e non è giusto discriminare contro la gente per quello che è. Ed è importante che questi bambini e queste molli non sentano il senso di colpa nei riguardi del padre. Per cui io credo che bisogna dire che se accettiamo omo, etero, b... Ma certo. E finis, poi c'è più altro. Poi c'è più altro e quindi siamo posti. C'è il transessuale, questo è più complicato. È vero, questo è ancora più complicato. C'è il transessuale, più complicato. Comunque, per cui io in questo credo follemente... Allora, qui intanto può friggere. Ok, va bene. Allora, questo è il ricordo sbagliato della mia mamma, come dicevo prima. E si comincia con le cipolle, si fanno soffriggere, queste vanno bene. Nel frattempo mettiamo questo basso, non abbiamo che fare. Io questo però te lo abbassi un po', Simonetta, perché se no... Tu me lo abbassi? No, dici di no? No, allora non te lo abbassi. Per ora no, dopo sì. Un po' d'olio, poco poco qui. Quello parco. Quello parco. Ah, se fai così proprio non esce proprio. Ah, non esce più niente. Seppure lo attappi, che già ne esce poco. Che sono cose moderne queste. E a casa nostra si mette il dito... Eh sì, perché c'è un po' d'olio, per averne di meno. Allora, ora invece spostiamo. Facciamo quest'altro passaggio, giusto. Allora, il mio ricordo, sempre il mio ricordo, era di queste costolette che sono squisite. Se c'è grasso si taglia. Queste che hai comprato tu sono meravigliose, così. E si mettono subito a friggere, a soffriggere. E io metto sempre un poco di rosmarino. È vero, è certo. Perché il rosmarino aggiusta tutto. Sì, esatto. E forse tra le erbe è la più bella. Perché rimane un odore di rosmarino. È proprio un odore del sud. Vero. È vero, è vero. Ok, quindi le fai cuocere a parte. Sì. Buone. Perché queste in siciliano si cedevano a granciare. Che? Aha. C'è qualcuno che è siciliano qui. A granciare lo capite. Cioè, tipo rosolare, bruciacchiare. A granciare deve bruciare un po'. Ah, ok. Allora è per quello che mi hai alzato il fuoco. Perché? Perché? Perché deve non essere l'agrodolce. Sì. E cominciamo con l'agro facendolo bruciare, detto in italiano. A granciare suona bene però. Sì, sì, è vero. Suona bene, ci sta proprio. Io sono sempre per la cucina veloce. Eh, giusto. Oppure per quella lentissima. Oppure per quella lentissima. Non hai via di mezzo. Non ho via di mezzo. Va bene, queste bastano. Direi. Queste rosolano un po'. Sì, ancora no? Che belline. Io veramente per l'agnello ho una passione. Sia fatto a scottadito, che rosolato, che la bacio. Anche quando scrive un libro? Esatto. Quello poi soprattutto, quando scrive un libro... Con gli omi, eh? Esatto, esatto. No, ma tu sai che nella mia famiglia hai diversi fan, no? Tra cui mia sorella, la mia mamma, che mi passa tutti i libri. Le mamme sono sempre importanti. Siamo tutte tue grandi. Tornando al mio povero bisessuale, però questo è il primo, il primo, il primo, il primo tabù. L'ho fatto innamorare di una donna che ha 30 anni più di lui. Ah, ma dai, una donna che ha 30 anni più di lui, accidenti, quindi è un po' il contrario. Lo zucchero dov'è qua? No, allora, lo zucchero è qua. Andiamo con il dolce. L'aceto è qua. Ti prepari. Perfetto. Quindi alla fine si innamora di una donna. Si innamora di una donna e l'ama per 20 anni. Oh, non mi dire troppo, è che io lo voglio iniziare a leggere da poco. No, poi non ti dico altro, ma l'ama. Per cui ho due tabù, perché io dico, se un uomo ha una ragazzina... Va bene con le mani. Se ha una ragazzina, la puzza di carne non è buona, però insomma va bene così, lo giro. Ma io te lo lascio qua, se cambi idea. Fatto. Se un uomo vecchio ha una ragazza giovane, diciamo bravo, se una donna anziana ha un ragazzo giovane, si dice che deve avere soldi, forse devono averli tutti e due. Tutte, pure l'uomo. Forse. Ok, ma adesso vanno molto di moda i toy boys, no? Esatto. Per cui ho detto due tabù insieme. Sì. Speriamo che il lettore se li compra, che devo dire. Secondo me sì, anche perché tu hai un approccio che a me piace, diretto, asciutto, senza retorica. Secondo me sarà... Io ancora ti dico, non l'ho letto, quindi non posso dire. Poi c'è poesia, poi c'è musica del Mali. Mali paese? Bellissima. Mali paese. No, ma magari era un modo di dire siciliano. Eh, in effetti ti può dire... Da noi Mali significa male. Zucchero. Ok, andiamo a fare... Ma l'agrodolce lo fai sulle cipolle, sì. Sì. Un bel cucchiaio grande, ne metto due piccoli, ma non ha importanza. Ok. Via, questo abbiamo spento, questo è bello acceso. Questo è bello acceso. A me l'agrodolce piace moltissimo farlo, perché è un po' la chimica. Già che c'è l'odore, l'odore che comincia. Perché prima caramella, poi sfumi, anche a me piace. Io faccio anche il coniglio in agrodolce. Anch'io? Vedi. Questo lo faceva anche in Sicilia, è l'agnello che non si fa. È l'agnello che è la tua... È l'agnello che non si fa, diceva. Anna, mai, mai l'agnello all'agrodolce. Infatti sono curiosa di vedere questo abbinamento, eh. Buono. Non lo dubbi. E qui caramelliamo. Qui caramelliamo. Tu li farai impazzire gli inglesi con le tue ricettine, perché Simonetta vive a Londra, no? Ti faccio impazzire? No, mangia, no? Eh, appunto, sarà anche lì, perché insomma... Non è che io cucino sempre bene, però, cioè a volte brucio, a volte mi vengono male le cose, dobbiamo essere onesti. Tutti però, dai, un po' tutti, eh. Ok. E vai, uniamo le cose. Uh, senti che profumino. Tu ormai qui ti muovi veramente con una indipendenza, eh, tra questi formelli. Sono già stata una volta qui e poi... Ti vede, ti vede. E poi io cucino sempre con la gente attorno, perché... C'hai sempre qualcuno per casa, ok. Oppure dico, venite in cucina, perché così... Almeno chiacchiere, se no rimane da sola, è vero. Noioso. Vero, è vero. Invece io non voglio nessuno, li caccio via tutti. Tu mandi tutti via? Sì, mando tutti via. Eh, ma sei più brava tu. No, che più brava. Forse perché io ho già tanta gente quando cucino qua. E allora almeno a casa... Ora mettiamo un poco poco d'acqua. Un poco d'acqua. Te la metto dentro questa cosa che ti piace tanto. Ti basta? Perfetto, grazie. Così fa un po' di sughetto. Fa un po' di sughetto. Ora in un mondo perfetto si copre. No, ma io ce l'ho in coperti, devo fare. Mi piace in un mondo perfetto. In un mondo perfetto si copre. In un mondo imperfetto si lascia. Così, esatto. Deve cuocere un attimino. Fatto, in due minuti. Due minuti. Aspetta, perché non si chiude più questo? E io lo servo con un purè di patate grossolano. Ah, cioè non passato. Allora, io lo faccio col purè di patate schiacciato. Oppure con un col... Un po' tagliato con un coltello, con una... E metto, non metto il parmigiano nell'uovo. Questa è la grossolanità. L'uovo no, nel purè io non metto l'uovo. Noi sempre. Urca, bello peso però, eh. Però è buono. Cioè è un piatto. Eh sì, diventa un piatto a sé. È un piatto assestante. E invece lo faccio col burro e anche con olio, ma poco, ma grossolano così. E poi quando lo servo metto la menta. Ora siamo quasi pronti per la menta. Che la menta va bene su tutto, no? Che bella. Poi metto qui la menta. Poi ho le mani mentose. Quando firmo i libri stasera, cipolla e menta. E a questo punto dirò che è la nuova acqua di Colonia, di Londra. E chi non la conosce è molto ignorante. Giusto, giusto. E dovrebbe vergognarsi. Sì, sale e pepe all'ultimo. Ok, sale e pepe. Questo è grosso, questo è fine. Vai. Mi sembra veramente un piatto delizioso. Buono. E poi è un ricordo di una casa che non ho mai avuta, ma che credo che sia la mia. Questa è una cosa bellissima. E questo, ora parlo sul serio e è importante. Spesso abbiamo nostalgia di qualcuno, di qualche cosa. E a volte non possiamo ricreare quello che avevamo. Io dico sempre, createlo anziché ricrearlo. Cioè fate un piatto che vi ricorda qualcuno, ma non esattamente quello. Così non si soffre. Perché altrimenti uno dice, non trovo questo ingrediente, bella madre, volevo fare quel dolce così e mi manca questo. No, fallo tu finto e dici ora è il vero. Bisogna creare un po'. Dobbiamo diventare tutti un po' scrittori. Inventare un po' una realtà parallela. Dai, bello, mi piace. È importante per essere contenti. Perché io tante siciliane dicono, ah non c'è questo, non c'è che so. Il nostro buonissimo riga. Non ha importanza, metterci un'altra cosa e fai finta che sia quello. Diventa tu. È giusto. Comunque volevo dirti che anche l'altra volta che sei venuta l'anno scorso, con la tua ruota fatta di polpette che c'è tra l'altro nel libro di quest'anno, era una ricetta che tu pensavi che fossi di famiglia e pure quella... Sempre, vanno sempre. Mamma mia. Sbaglio sempre. Allora io ti prendo il piatto. Sbaglio sempre. Questo è il mio dono nella cucina. Non si sa mai che si fa. Una volta avevo fatto un gelato di pistacchio squisito, buono, come ha insegnato la mamma. Non ci crediamo più però che te l'hai insegnato la mamma. Avevo gente a cena, non si saprà mai. Vado a prenderlo e tiro fuori una minestra di piselli surgelata. Voi ci ridete, voi ci ridete, ma io ero lì con questa minestra dei piselli e per fortuna sono golosa e ci ho infilato un dito per assaggiarlo, col dito, quando non si fa. E ho visto che erano purtroppo questi manetti piselli. Che figura, che figura ragazzi. Sì, questa non ti giuro che non l'ho mai sentita, ne ho sentite tante. Che vergogna, che vergogna. Sempre di fretta vado in cucina, prendo questo, perché poi io decoro sempre bene. Perciò c'era questa minestra di piselli col cioccolato sopra. Bellissima. Bisogna sempre mettere le etichette quando si mettono le cose nel cibo. No, l'ho leccato, l'ho lasciato e ci ho portato frutta. Dicendo a casa nostra. A casa Agnello si mangia la frutta, dicono no, gli altri mangiano a noi sempre la frutta. Una cosa più sana. Una cosa più sana e l'indomani minestra tutta la famiglia, perché era un minestrone enorme che aveva aperto. Ma insomma, questi sono i guai di chi... Di chi va di fretta. Chi non scrive, chi non scrive quello che c'è nel freezer. Esatto, con l'etichetta. Con l'etichetta. Io invece niente. E ho imparato di avere sbagliato in modo pauroso. Mettiamo questo. Ora decoriamo. Ah, ecco, sì, perché ci vuole. Allora, a questo punto la menta si mangia, rosmarino meno perché non ha importanza, perciò una fogliorina di menta su ognuna di queste, perché i piatti, mamma diceva sempre, devono essere appetibili. Che bella parola, non lo diciamo mai. Perché sta di appetitoso e di bello. Appetibile, sta di delicato, come era la mia mamma. E questo deve essere un piatto appetibile, direbbe mamma, fatto così. Bellissimo, bellissimo. Vieni, Simonetta, appoggialo qui. Fantastico. Molto bello. Allora, libro per libro. Io adesso incomincio il veleno dell'Oleandro. Ti do il libro, l'ultimo che è uscito, che è anche la tua roba. Mia, grazie. Eh, certo, questo è tu. Ma lo devi firmare. E tu anche, devi farla dedica. Ci scambiamo le firme. Ci scambiamo le firme e questo weekend inizia il veleno dell'Oleandro. Grazie mille a Simonetta Agnetta Ordo, i complimenti. Abbiamo affettato la cipolla, l'abbiamo rosolata con l'olio, abbiamo aggiunto lo zucchero e l'aceto. In un'altra padella abbiamo rosolato l'agnello con un po' d'olio e il rosmarino, poi lo abbiamo aggiunto alle cipolle. Abbiamo unito anche un po' d'acqua, fatto cuocere per un paio di minuti col coperchio. Abbiamo aggiunto la menta, sale e pepe. Per la serie Antichi Sapori, così è il nostro menù, facciamo dei biscotti di meliga. La meliga in realtà è la farina per la polenta, no? La fioretto poi che è la più sottile. In piemontese si dice meliga. E si fanno questi biscottoni che io mangio sempre in campagna, che sono buoni perché hanno questo sapore un po' croccante, dato proprio dalla farina di polenta, che mi ricordano quindi antichi sapori, che sono molto buoni. Si fa una sorta di pasta frolla, quindi si può fare a mano, ma è molto veloce farlo anche nel mixer, no? Mettendo tutti i vari ingredienti. Bisogna calibrare la farina 00, noi ne metteremo 250 grammi e la farina della polenta. Mi raccomando, fioretto che è la più sottile, non mettete la polenta taragna, che non viene tanto bene. 125 di farina fioretto, poi ci mettiamo una bustina di vanillina, che gli dà quel giusto sapore di vaniglia. 125 grammi di zucchero, quindi come la farina. Una bella presa di sale, perché si deve sentire il pizzico di sale in questa preparazione. La scorzetta di limone, se vi piace, se no si può anche non mettere, ma secondo me ci sta. Ok. E una piccola quantità di burro, 250 grammi. Però i biscotti devono essere burrosi, questi poi uno non ne mangia un quintale, però già c'è questa farina che rende il biscotto granuloso, deve essere bello burroso. Allora, io lascio il burro abbastanza duro. Tagliamo a pezzetti e lo mettiamo dentro. 250 grammi. Si dice che questi biscotti vennero inventati dai panettieri che, in crisi, perché la farina 00 costava troppo, incominciarono a mescolare la farina di frumento con la farina di polenta. Come spesso accade, queste ricette povere poi diventano le più gonose. Ok, diamoci una prima frullata. Ok, vedete che adesso l'impasto è bello granuloso, ci mettiamo un uovo intero e un tuorlo. E voilà! E diamo un'altra frullata. Ecco che si forma la famosa palla! Ok, non lavoratelo troppo perché sennò diventa troppo molle. Ok. Così. Vabbè, questo posso anche sacrificarlo. Si stende tra due fogli di carta forno, perché sennò è un po' appiccicoso. Poi gli si dà ancora magari una impastata così. Ah, signori, dai, vieni via. Sì, è un impasto molto morbido. Allora, l'ideale sarebbe metterlo nella pellicola e lasciarlo in frigo per un po'. Sennò comunque vi dovete aiutare con un altro po' di farina. in modo da riuscire a lavorarlo, no? Vedete che ecco, se vi fate aiutare dalla farina, lo potete stendere subito in questa maniera. però diciamo che è un lavoro un po' frettoloso. E poi lo stendete. Una volta che è steso, vedete com'è morbido, necessita assolutamente di stare un pochino nel frigo. eh, lo mettete magari su un vassoio, insomma lo lasciate riposare un pochino. Poi io ho un altro impasto, che mi arriva dalla cucina, che è bello freddo. Spero che sia abbastanza freddo, sì. Eccolo qui. Più freddo è e più facile è lavorare. Allora, se lo tenete morbido così e avete fretta, potete metterlo in un sac à poche o in una siringa. E fate con la zigrinatura una ciambellina. E quelli che mangio io spesso sono fatti anche così. E allora andate subito. Se invece, ecco, volete farlo con il copapasta o con un bicchiere, dovete per forza aspettare che diventino freddi. Ci sono le due opzioni. Eccoli qua. Quelli che mangio io in campagna hanno la forma di un fiorellino. Questi invece sono delle ciambelline. Ok, ne facciamo un po'. Anche più grandi, eh. Devo dire che mi hanno dato dei copapasta piccolini, ma questi biscotti nelle campagne piemontesi hanno la caratteristica di essere grossi così, che uno, una volta che uno ne ha mangiato uno, poi è a posto fino all'ora di pranzo. Così. Di qua che è un po' più sottile. E via. Ok. Io ne ho fatti un po' pochini, è giusto da vederli. Mi sono anche un po' sporcata, ma è normale. Un 180 gradi, cuociono anche 15-20 minuti. Dovete vedere un po' voi quando è il momento giusto. Io gliele do 15, poi li guardo. E intanto vi faccio vedere quelli pronti. Eccoli qua che arrivano dalla cucina, guardate come sono proprio casalinghi, eh. Via, fatemi un po' di spazio. Eccoli qua, i biscotti di Meliga. Che voglia che ho di andare in campagna, mamma mia. Perché poi per me vuol dire vacanza, no? Sono quei posti che naturalmente io identifico con la vacanza. Semplici, rustici, ma come sono buoni. Eccoli qua. Ho mescolato la farina bianca con quella fioretta, la vanillina, lo zucchero, il sale e il burro. Ho dato una frullata, poi ho unito anche le uova e ho frullato ancora. Ho steso l'impasto aiutandomi con un po' di farina. Ho fatto raffreddare bene in frigorifero, ho ritagliato le ciambelline, le ho cotte 15-20 minuti a 180 gradi. Una tavola che ha i sapori d'altri tempi, di sapore antico, che è dato molto da questa tovaglia ricamata, che sembra un po' la tovaglia della nonna. Anche i piatti hanno un sapore antico, io li trovo bellissimi. Ho voluto mettere ai lati, invece che un centro tavola, due contenitori che sembrano un po' quelli del latte, sempre di altri tempi. In uno la pasta, gli spaghetti, visto che poi sono quelli anche che cucineremo tra poco in una meravigliosa pasta, e i grissini al posto del pane. Allora, dopo questa tavola andiamo a fare un ripassino del salvacena, che anche in questo caso ha un sapore antico, perché è la pappa al pomodoro, una ricetta povera, toscana, che io amo tantissimo. Cercherò di farla in otto minuti, però fatta per bene, partendo dal pomodoro fresco. Quindi i pomodori freschi, aglio, parmigiano, le fette di pane, il dado, poi naturalmente il peperoncino, che un po' ci vuole, e il basilico. E adesso invece salutiamo Francesca Arata. Ben tornata del baccaro del Sambufo a Milano, che insomma, torni secondo me a fare un'altra pasta meravigliosa, lo vedo dagli ingredienti, molto ricca. Amo le paste, quindi sono sempre portata per le preparazioni delle paste. Con il tonno, vedo, tonno fresco? Questa è una pasta fatta così, tonno fresco, ma è la parte, la ventresca. Ah, ok. Adesso c'è una grande diffusione delle parti nobili, diciamo, del filetto, perché molti mangiano pesce crudo. Noi non amiamo molto servire il pesce crudo, però amiamo questa parte qui, che è cruda, non si può servire, perché è una parte grassa, sapida. Però quando viene trattata ha un sapore veramente subito. E quella anche che si usa per fare il tonno sott'olio, no? Certamente, che questo è proprio che io, quando ne faccio una quantità un pochino grande, e poi... Lo fai tu? Questo lo facciamo noi. E questo è del Sambuco, del vostro ristorante? Questo sì, questo lo faccio io, quindi... E' fatto, anzi, questo te l'ho portato perché vorrei tanto che tu lo assaggiassi e che mi dessi il giudizio. Con grande piacere. Bene. Quindi possiamo vedere proprio come si fa, come si arriva anche a questa preparazione. Come si arriva anche a questo, perché l'inizio della preparazione è fatto proprio per poi tornare a questa cosa qua. Ottimo. La ventresca va prima marinata, quindi con una percentuale abbastanza alta di vino, di acqua, di sale grosso e di erbe aromatiche. Viene cotta in modo molto breve perché, come tutti i pesci, ha una cottura molto breve. Presto. Poi lo si sgocciola, si parte con un condimento con il cipollotto fresco, con i pomodorini, con poche altre cose. Sono ingredienti molto semplici. E' nata un po' questa ricetta con l'idea del tonno e cipolla che si mangia d'estate. Sì, certo. E' una ricetta molto veloce, semplice, che si può fare veramente ovunque. In casa, fuori, lo può fare chiunque. Allora, cosa dici? Cominciamo, partiamo con qualche cosa? Certo, partiamo subito a preparare subito la marinata. Alla marinata. La marinata. Allora, prendo il vino e lo metto in questa casseruola che, Benedetta, se mi aiuti ad accendere questo, che tu hai pratica della tua cucina. Ecco, che deve essere quindi un po' vivace. Sì. Ok. Vino bianco. Vino bianco, vedi che è in abbondanza, per quella quantità di pesce. E poi mettiamo dentro l'alloro, che come dicevo un attimo fa, sono anche fortunata che ha il laurino, che ha quelle piccole bacche che sono aromatiche, si fa anche un distillato. Ah, non lo sapevo, vedi. Certo, va bene. Tutte le parti, questa può essere una bella ricetta per non usare sempre il filetto. Va bene. Senti, intanto che vedo che qui si scalda la marinatura, noi facciamo poca... vuoi mettere prima il tonno? No, adesso metto il sale e adesso il sale grosso che ce l'hai qua. Ok. Allora noi facciamo poca poca pubblicità e poi torniamo per questa splendida ricetta insieme a Francesca. Perfetto. Bentornati nella mia cucina insieme a Francesca Arata del Baccaro del Sambuco, con cui stiamo facendo questa pasta con la ventresca di tonno. Per ora abbiamo messo vino, acqua, sale grosso, alloro, giusto? Allora, adesso mettiamo anche queste bacche di pepe. Qui c'è un pepe misto che si prepara con vari tipi di pepe. E c'è pepe di sei guano, pepe rosa, pepe bianco, verde, un pochino di tutto. Con diversi aromi. Con diversi aromi. Adesso l'acqua sta già bollendo, le metto anche un ramettino di menta. Ok. E via con la ventresca. E via con la ventresca. Intanto che la ventresca in pochi minuti si cuoce, che si cuoce, si deve scottare per perdere un pochino le caratteristiche del frutto. Costerà anche meno, immagino, del frutto. Certo, più della metà del meno, sì. Intanto io posso cominciare a preparare il fondo di cottura. Ah, ma va che io questa cosa non l'avevo mai fatta, di schiacciare così i cipollotti. È molto più veloce. Sì, che non ti ruzzola via. È vero. Non ti scappa. Sennò ti scappa da tutte le parti. Non ti scappa. Mannaggia. Puttiamo giù anche la pasta, sta quasi bollendo. Mettiamo il sale. Adesso io preferisco intanto accendere questo. Allora, no, è questo qua. Mettiamo un goccettino d'olio. Ecco qua. Ok. Vai, butta la cipolla. Io intanto dicevo... Io sono abbondante anche nell'olio, eh. Io sono abbondante nell'olio. Ma scusa, allora la pasta... Sono un emigna, la siamo grassi. Se non ha un po' di sugo, di olio, non è buona. Io sono, guarda, su questo non transigo. Eh, no, la pasta è così. Devi metterglielo perché, a quanto pare, è tutto bellezza. Eh, no, ecco, vedi. Senti, metto io, mi dai la responsabilità di mettere il sale nell'acqua? Sì, grazie. Così. E la mettiamo tutta questa, o è troppa? Guarda un po'? Beh, vediamo un pochino. Guarda tu. Io mi regolo così, eh. Eh, infatti, vai. Allora, io direi che ne facciamo tre o quattro porzioni. Sì. Da assaggiare. Una, due, tre, quattro. Vieni, ok, adesso te lo schiaccio io. Questa è una porzione così. Benissimo. Vai, con il resto. Eh, insomma, faccio un po' l'aiutante, eh. Grazie, onorata, onorata. Questo è un grande onore. Già era un onore essere venuta qua. Adesso sono onorata ancora di più. Tanto stavo guardando anche qui, che bella la ventresa. Lo posso girare così si cuoce anche in questa parte qua? Sì. Io te lo giro, eh. Che bei colori, che bei profumi. Vedi che bianca che diventa chiara, bella. Sì, sì, un attimo. E assorbe tutti i profumi. Oh, mi son girata un attimo? No, nella padella c'è solo la cipolla con il basilico e il prezzemolo. Cipolla, basilico, prezzemolo e poi, una cosa che io metto sempre, una puntina di peperoncino. Sì, ci piace. E qui salta fuori quel pizzico di animo del sud che io non so come mai me lo sento addosso, pur essendo nata in piena Emilia. Ecco qua, questo lo facciamo leggermente tostare. A volte sono sempre accelerata perché chi lavora nei ristoranti deve lavorare con un gran punto di accelerazione, con una velocità maggiore. Poi voi siete sempre pienissimi, io non ho mai visto il baccaro, grazie al cielo, che non sia pienissimo e quindi bisognerà correre. Ecco qua, questi sono pomodorini, datterini, che sono più dolci, quindi aiutano sempre a togliere l'acidità. Ah, ecco qui il tonno sta venendo che è una meraviglia, vedi? E quindi cioè una volta che è cotto poi tu questi barattoli li hai fatti così? No, ci hai messo l'olio. No, io devo metterci, le metto nel baratto, lo sterilizzato naturalmente scaldato, metto dentro il tonno, lo riempio di un olio buono, un extravergine. Ok, non di marinatura, quindi non c'entra niente, si lascia via. Si mette proprio un olio vergine e poi si mettono i barattoli nei pentoloni grandi, proprio come una volta, e si fanno bollire. Per vedere quando arriva al cuore la temperatura giusta, io di solito ci metto una patata grossa, quando la patata è cotta la temperatura è arrivata anche all'interno del prodotto. Poi perché la capsula rimane dentro, anche quello ti fa capire che non c'è più aria, si. Ecco, lo lasciamo appassire ancora un attimo e poi ci mettiamo un goccettino di vino. Si, vai. Ecco, un pizzichino di sale. Giusto. Ce l'hai trovato? Si, tutto reperibile qui da te, tutto reperibile. Mi sembra di esserci sempre stata, pensa un po' come se è ospitale. Ah, bello, questo mi fa molto piacere. Sei molto ospitale. Ecco qua. Eh sì, bisogna sempre assaggiare. Assaggiare. Ecco le olivette. Ad esempio, io ci metto due o tre olivette di queste qui, io sono olive taggiasche, che anche queste hanno una funzione, punto, per togliere. Deve equilibrare, il condimento non deve essere né troppo acido, né troppo salato, né troppo dolce. E quindi tutti questi ingredienti mi aiutano a dare una certa tranquillità al piatto. Ecco, adesso vediamo un po' se si sfoglia. Vuoi che ti prenda poi un piatto per scolarlo? Lo metti... Ben volentieri, grazie. Allora ti prendo già un piazzino così. Guardi, ci siamo. Ti faccio correre troppo, eh? Ma va, ma figurati. Ti faccio correre troppo. No, anzi, io non faccio niente. Sono qui che guardo e prendo ispirazione. Poi ai miei bambini il pesce, la pasta col pesce piace molto, no? Quindi sono tutti varianti. Si vede che sei stata brava ad abituarli. Sì, a loro il pesce piace tanto, è a mio marito che non piace il pesce. E lui il bambino. Qua lo sfoglio, che la ventresca proprio ha la possibilità di sfogliarsi così, e rimane soltanto la parte magra, perché la parte che lo divide è la cartilagine, che si lascia lì nel brodo e rimane un pezzettino asciutto e piacevolissimo. Io lo lascio sempre a pezzi così grossi, perché mi sembra che sia ancora più gradevole. Sì, è vero. Non mi piace tritarlo. No, no, sì, è più impreggiato. Ti stai bruciando, no? No, no, assolutamente. Sono io che governo il fuoco, non il fuoco che governa me. Giusto! Non è una forchetta, no? Grazie mille. Forse vai meglio. Adesso che si avvicina l'estate, uno ha voglia di questi piatti qua da morire e si avvicina ancora sempre. Sono preparazioni semplici che si possono fare davvero, anche in barca, se uno ha la fortuna di averla. Eh, se uno ha la fortuna di averla. Sennò si va in qualcuno degli amici. Esatto. Si ha sempre qualche amico che ha in barca. Esatto, ma sai che io non amo andare in barca, perché come ho pura di volare, io ho pura di tutto, pura... Se rimane in porto, sì. No, non si vede marino neanche io. Forse da piccola si vede che non ho molto frequentato le spiagge o roba del genere. Eh sì, o le barche. O le barche. Io penso che ci siamo. Vai, ok. E adesso io vado a bocciolare qua. Vai. Ecco, un bel colapasta che mi hanno già preparato. Sì, sì, è già tutto pronto. Ecco qui. La fase finale. Adesso le diamo un pochino più di fiamma, perché adesso deve proprio prendere tutto il sapore che deve prendere. Bellissimo. Meraviglia. A quest'ora faccio fatica io a trattenerti. Non trattenerti. Mi devo focalizzare su qualche cos'altro, se no te la mangio subito. Bellissimo. Ecco, quando si serve questa porzione, magari è molto piacevole servirla quasi libera. Sì, sai che è vero, anche volendo una la porta nella ciotola, vero? Non mescolata. Nella padella è l'ideale. Sì, anche nella padella. Ma poi anche quando si fa la porzione. Secondo me è molto bella non lasciarla coperta dal condimento, ma il condimento mettercelo sopra. Tanto l'intingolo, il sapore l'ha già preso. Quindi facciamo in modo adesso di metterla quasi spogliata dal condimento. E poi ce lo metti sopra. E poi ce lo mettiamo sopra. Vai. Che trionfo di pesce! Mamma mia! Questi sono proprio i piatti che mi piace portare a tavola. È il più bel complimento che potessi ricevere. Mamma mia! Vieni, portalo lì, a te l'onore Francesca. Fantastico! Questi spaghetti con la ventresca di tonno, pronti da mangiare. Grazie mille Francesca Arata! Grazie a voi. Abbiamo preparato la marinata mettendo a scaldare il vino con l'alloro, l'acqua e il sale grosso, menta e pepe. Ci abbiamo lessato la ventresca per pochi minuti e per il sugo abbiamo rosolato i cipollotti tritati, abbiamo aggiunto basilico, prezzemolo, peperoncino. Poi ci abbiamo messo i pomodori, li abbiamo fatti appassire. Abbiamo sfumato con il vino, salato, abbiamo unito le olive, poi abbiamo scolato il tonno, l'abbiamo spezzettato, l'abbiamo aggiunto al sugo, abbiamo saltato la pasta in questo meraviglioso sugo e abbiamo completato con un po' di prezzemolo. Siamo arrivati al salva cena! Oggi facciamo davvero uno dei miei piatti preferiti e veramente sono antichi sapori, quelli della Toscana, perché facciamo la pappa al pomodoro, quella vera che mi hanno insegnato proprio in Toscana. E la facciamo, bisogna andare in fretta, ma noi la facciamo in otto minuti! O almeno ci proviamo! O almeno ci proviamo! Allora, quanti ne mettiamo? Non ne faccio tanta, perché è un lavoro un po' noioso da passare, eccetera, per cui io non uso troppi pomodori, almeno ne faccio una porzione piccola e forse ce la faccio a farla tutta, questa ricetta. Ho visto che la voce è quella della mia mamma, meno male, è giusto perché mi ha insegnato lei a fare questo piatto, perché è un piatto che lei ama tantissimo e quindi è andata a cercare la ricetta giusta e me l'ha insegnata. Quindi noi abbiamo preso 4 o 5 pomodori, li mettiamo così senza niente dentro, in una pentola e li facciamo cuocere un pochino e li strapazziamo anche un po'. In maniera che lasciano un po' il sapore e si cuociano un pochino. Sette minuti al Tg, Benedetta sbrigati! Ne facciamo praticamente una porzione, forse ancora uno riesco a metterlo così poi me la porto a casa, che questa mi piace da matti. Io ecco che sono adesso così attenta e morigerata con la cucina, di pappa al pomodoro potrei mangiarne, non so, un quintale, vabbè insomma. Ci metto anche il coperchio così almeno vanno più in fretta. Nel frattempo posso incominciare a tagliare il pane, che è fondamentale perché la pappa al pomodoro, altro non è poi che pomodoro, pane, aglio e parmigiano. Ok, allora pane, bisognerebbe avere il pane toscano, naturalmente quello senza sale. Ecco, io a volte dico la verità, quando non ho quello uso il pane di Altamura, però l'ideale sarebbe quello lì, scomodo sto pane da tagliare, mannaggia. Poi non c'è neanche la mollica, porca miseria. Mancano sei minuti al Tg. E qui è tutta crosta, è tutta crosta. Se non mi lamento non sono contenta. Allora, voi a casa, tagliate bene la crosta del pane, non è che deve essere secco per forza, va bene, anche se è fresco. Così è più morbido e si sfalda meglio. Oh, tutto bucato, va bene. Cominciamo a fare questo, così. Poi la pappa al pomodoro ha questa caratteristica, che più rimane lì, più diventa buona. Per cui io ne faccio sempre tanta a casa, perché poi il giorno dopo la mangio ancora più volentieri. Insomma, speriamo che basti, mi sembra un po' poco questo pane, ma cominciamo così. Vediamo come sta il pomodoro, eh. Dove avevo messo il cucchiaio? L'ho perso, ne prendo un altro. Ecco, vedete che... Già si è un po' cotto, poi volendolo si può far cuocere anche di più. Io lo tolgo adesso e incomincio. Benedetta, cinque minuti al Tg, sbrigati. Eh, lo so, mamma. La cosa più noiosa di questa ricetta è che il pomodoro bisogna assolutamente passarlo. Cioè, non osate usare il frullatore a immersione, perché viene una cosa tutta cremosa. Piuttosto mettete il pomodoro fresco senza passarlo, ma non fatelo... Ma miseria, che fatica! Cosa non si fa per la pappa al pomodoro? Allora, allora... Cominciamo, ecco. Le metto ancora un po'. Anzi, lo butto tutto, così ho qui... Aspetta, eh. Comincio, gli do una sciacquatina leggera. Lo asciugo e incomincio a far rosolare l'aglio con l'olio. Quindi, a casa, mi raccomando... Cazzarola! E cosa devo fare? Quattro minuti? Quattro minuti al Tg, ce la fai? Madonna, madonna! Ho messo in sacco... Aglio... Un po' di basilico e un po' di peperoncino. Non ce la farò mai, non ce la farò mai, non la dovevo fare, sta ricetta. Voi siete carini! Allora, passate velocemente il pomodoro. Che fatica! Che fatica, mostruosa! Ho un braccio che sembro Wonder Woman. Velocissimamente. Pensate che io di solito ne faccio due o tre chili di questa roba, perché almeno poi vivo di rendita per qualche giorno. No, io qui mi devo sbrigare, va bene, anche se non l'ho fatta tutta. Ne metto, faccio ancora un giro. Non di più. Ok. Ecco. Eh, capito? Tre minuti al Tg. Va bene, basta. Incomincio a mettere questa. Ok, tutta. Ho messo troppo olio per la quantità di pomodoro, eh. Ahimè, però va bene lo stesso. Allora, adesso lo rimetto sul fuoco un po' più alto. Ecco, mi sono già schizzata, mannaggia la miseria. Perché ho messo troppo olio. E aggiungiamo, in base a quanto pomodoro avete, un po' di dado granulare di carne, che lo insaporisce da lontano. Ok. E il pane sbriciolato, così. Spero di averne fatto abbastanza. In modo che piano piano diventi molto, molto denso. Mettete il pane poco per volta, mi raccomando. Adesso prendo una frusta e lo mescolo. Vedete che è un piatto veramente povero. Pena hai detto due minuti al Tg. No, no, ce la faccio. Ce la faccio, ce la faccio. Ce la faccio perché questo è il mio piatto preferito. Non lo posso sbagliare. Il sale, ok? Per chi si fosse messo in... Forse avesse acceso la televisione, mi viene mai sta cosa. Non ce la posso fare. Ce la posso fare. Per chi avessi acceso la televisione adesso? Sto facendo la pappa al pomodoro, il mio piatto preferito. Ho messo i pomodori a sbollentare, li ho passati alla velocità della luce, facendo una fatica mostruosa. Ho fatto un bel soffritto con l'aglio e il peperoncino, ci vuole anche il basilico. Poi ho messo la mia, diciamo, passata di pomodoro fresca, il dado, il sale e poi il pane. Quanto pane basta per... Madonna ragazzi, guardate qui. No, no. Allora, in ultimo, vedete, non deve cuocere tantissimo. Forza Benedetta, un minuto al Tg, finito? Sì, ho finito. Perché non deve cuocere tantissimo. Deve solo sciogliersi bene, ma non c'è il par... Ah, che c'è il parmigiano. Ecco qua. Anzi, il grana padano. Pronti via. Questo io spengo, perché vedete come già si è ben amalgamato il pane. aggiungo un bel po' di parmigiano e poi vado a fare un super impiattamento. Oggi non mi fregate. Oggi non mi frega nessuno. Allora. Certo, devo dire che d'estate il pomodoro è un'altra cosa, eh. Questo è veramente un po' chiarino. Però noi... Ecco, togliamo l'aglio, che non ci sta. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Bene, inizia Tg. Come no! Ci vuole anche il feo finito. Guarda, eh. Stavolta l'ho fatto, bella, vero? No, abbiamo troppo finito. Pappa al pomodoro, pronta da mangiare. Alla prossima puntata, grazie a tutta la cucina!